Forte crescita dell'attività economica in Friuli Venezia Giulia, più che nel resto d'Italia, è il primo dato che emerge dal rapporto annuale della Banca d'Italia, che stima un aumento dell'attività economica in regione del 7,5%, superiore a quello del PIL nazionale, fermo al 6,6%. La crescita è stata di eccezionale entità nel secondo trimestre, che si confronta con l'analogo periodo del lockdown pandemico del 2020. In seguito la crescita si è attenuata, frenata dai rialzi dei prezzi dell'energia e dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali, specie nell'industria. Lo scoppio della guerra in Ucraina, poi a fine febbraio, ha acuito le tensioni dal lato dell'offerta e i rischi a ribasso del ciclo economico. Nell'industria la crescita della produzione e delle vendite nella prima parte dell'anno è stata intensa e diffusa tra i settori. Le vendite, valutate a prezzi correnti e al netto della cantieristica, sono aumentate di quasi il 30% rispetto al 2020. La ripresa rischia rischia però, secondo le previsioni delle imprese, di interrompersi nell'anno in corso con il peggioramento delle prospettive proprio a causa della guerra. Nel settore delle costruzioni l'attività economica è aumentata nel 2021 in misura considerevole, portandosi sopra i livelli pre-pandemia, sospinta dalle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni e dalla ripresa degli investimenti pubblici. I servizi, invece duramente colpiti dalla crisi del 2020, hanno beneficiato del progressivo allentamento delle restrizioni. Il recupero qui è stato però solo parziale in diversi comparti, specie in quelli collegati al turismo, dove le presenze sono sia aumentate del 53% rispetto al 2020, restando tuttavia inferiori per circa un quinto rispetto ai livelli pre-crisi. Nel porto di Trieste, se si eccetto al flusso petrolifero destinato all'Europa centrale, nel 2021 la movimentazione delle merci ha sostanzialmente recuperato i livelli del 2019. Il mercato del lavoro nel 2021 e il recupero dei livelli di attività economica ha favorito la ripresa dell'occupazione che ha superato il livello del 2019. Il tasso di disoccupazione è stabile al 5,7% e il tasso di attività in crescita al 71,5%. Infine le famiglie, il reddito di quelle residenti in regione è tornato a crescere significativamente collocandosi su livelli prossimi a quelli pre-pandemici.